e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi sarà il primo video di una serie in quanto visto che mi sto preparando per i prossimi viaggi che farò in moto voglio un po rendervi partecipi di delle decisioni che prendo a riguardo dell'attrezzatura eccetera eccetera oggi inizierò a illustrarvi un po come ho allestito la moto per appunto per i viaggi e partiamo ecco punto parto dalla moto moto che vi ricordo una 36700 con allestito il gtpec gtpec comprende borse laterali rigide sella comfort e cupolino maggiorato in più io ho aggiunto per appunto prepararmi per i viaggi come vedete qua una borsa serbatoio della oxford ok molto capiente ha qua un portacellulare o navigatore e qua dietro c'è anche l'ingresso per i cavi di ricarica della corrente questa borsa è a sgancio rapido in quanto c'è una ghiera c'è da installare una ghiera sul sul serbatorio e poi si va ad agganciare e a sganciare con una levetta questa levetta tirandola si sgancia la borsa ok poi dietro ho acquistato un ragno un ragno ferma bagagli dove metterò la mia borsa con dentro adesso vedremo e vi farò vedere anche un po come organizzerò gli spazi ok che sarà un video un prossimo video poi visto che comunque la moto ha una trasmissione a catena ho voluto far mettere un cavalletto centrale così che come vedete la ruota posteriore resta sollevata e si possa far girare la catena per andare ad ingrassarla e a mantenerla anche durante i nostri viaggi fine ragazzi qua davanti ho fatto installare da così qua davanti ho fatto installare non so se si vede un parara radiatore che è questo qua nero in quanto ho visto che comunque questa moto magari un difetto di questa moto è che il radiatore è molto esposto e quindi visto che la moto è nuova e non volevo non volevo rischiare ho voluto ho voluto mettere appunto il parara radiatore quindi questo intanto per la moto è tutto penso che prima di inizio per inizio maggio farò installare anche un caricabatterie visto che c'è la disposizione della predisposizione qua e niente vi ricordo che ragazzi sia per la borsa che per il ragno c'è un link in descrizione e niente vi ricordo anche se volete prendere la borsa serbatoio vi serve anche prendere la ghiera per la vostra moto quindi niente ragazzi per il primo video di questa serie è tutto e ci vediamo la prossima ciao ciao